Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica in diretta su Sesta Rete dalle 19.30 in poi, in replica alle 23 ed il lunedì mattina alle 8.30. Penalty, la domenica sportiva dei campionati dilettantistici siciliani da non perdere. Un programma esclusivo Play Village, curato e condotto da Ettore Tortorici.